michele cesario domenica hai staccato il tuo compagno letto 20 gol in 21 partite una media di un gol a partita prima di pensare alla squadra ti sei posto un obiettivo personale l'obiettivo era quello di riconfermarmi cioè di rifare lo stesso percorso che ho fatto l'anno scorso con la stessa media gol diciamo per fortuna ci sto riuscendo però voglio sicuramente migliorarmi però l'obiettivo primario era rimanere in media quella dell'anno scorso che non era facile anche perché l'anno scorso erano stati 27 a Casalbordino dove hai giocato anche nella metà della stagione precedente erano stati 12 quindi parliamo quasi di 40 gol a Casalbordino dove ironia della sorte giocherai domenica un big match seconda contro terza due squadre che stanno bene guardando i numeri voi però avete 7 punti di vantaggio andrete per scappare a più 10 e mettere un solco nella storia dei playoff oppure vi potrete accontentare anche del pari sicuramente sarà una partita molto combattuta a livello agonistico perché ci sono punti che valgono molto per il campionato la firma per il pareggio non la mettiamo mai noi ovunque andiamo cerchiamo di imborre il nostro gioco e di vincere quindi il pareggio diciamo che non serve secondo me a nessuno dei due tutti quanti vogliono dare il massimo domenica e prendere la massima posta in palio che partita sarà? Secondo te il Casalbordino si potrà accontentare del pari o anche loro giocheranno per i tre punti? no conoscendo la piazza conoscendo l'ambiente penso che non verranno mai per pareggiare contro di noi se la giocheranno come giusto che sia perché hanno dei giocatori molto validi e non avrebbe senso aspettare per un eventuale pareggio all'andata li hai fatto parecchio male proverai a confermarti anche domenica? quello sicuramente perché adesso indosso un'altra maglia un'altra società ringrazio il Casalbordino per tutto perché mi ha fatto crescere sia sotto l'aspetto umano sia sotto l'aspetto calcistico però adesso cerco di dare tutto per questa maglia e cercherò di prendere i tre punti domenica in estate sei tornato a Vasto Marina, eravate partiti con ambizioni piccole però man mano l'entusiasmo è cresciuto siete i secondi da una vita il Lanciano è lontano ma l'eccellenza? l'eccellenza non è né lontana né vicina diciamo cioè noi ormai ci siamo posti con obiettivo perché era impossibile non farlo non ti nascondo che a inizio anno avrei firmato per fare i playoff senza alcun dubbio però in questo momento è normale che la squadra alza la sticella e prova a dare di più perché i numeri parlano chiaro siamo una squadra che può competere e che può andare in eccellenza molti ogni volta che guardano le prestazioni tue di Cernaz, di Leto dicono ma questi tre come fanno a giocare ancora in promozione? l'anno prossimo andrete in eccellenza con o senza il Vasto Marina? non so dirti di preciso questa cosa io so che sto bene dentro casa mia sto bene con i miei compagni è un gruppo che va oltre il calcio secondo me perché veniamo al campo e siamo una famiglia tutti conosciamo i caratteri di tutti è stupendo stare dentro casa in queste condizioni poi se è una carriera uno può sempre migliorarsi non si deve ponere dei limiti vedremo come andrà a finire ma soprattutto voglio vincere il campionato qui provare a fare i playoff e spero tante cose belle diciamo